CREEPPER! WHAT THE FUCK! Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodico dove sono sceso in caverna e ho trovato un sacco di roba ragazzi in sacco vi faccio vedere adesso ho finito tre picconi perchè non posso usare il mio backpack allora guardate quanta roba ragazzi, quanto ferro un bel po' di oro, ma guardate soprattutto diamante e volevo raccoglierlo insieme a voi olé, olé, olain bene, 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 raccogliamo questo diamante raccogliamo qua una nuova che c'è la lava raccogliamo la redstone e ce ne andiamo dritti dritti a casa ok allora ragazzi eravamo rimasti nel periodo scorso l'impianto quello di giù in cantina prima di tutto oggi lo potenziamo, lo sistemiamo allora mettiamo via questa roba la cobblestone, tutto questo ferro, la tin i diamanti li teniamo noi via questo, 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 questo perfetto l'alluminium via ok, allora 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 andiamo a vedere un po' giù che era successo intanto in questa chest c'è tutta la mia roba perfetto, voilà allora, vedete ho sistemato un po' intanto qua non è cambiato nulla ragazzi perché non si scalda anzi vedete che gli scende gli scendono i gradi ma nessun problema allora cosa facciamo adesso facciamo una bella cosa allora mi serve del vetro che non abbiamo facciamo dei tubi in diamante dovrebbero venirne 8 vediamo un po' eh voilà 8 tubi in diamante pampete abbiamo consumato, fa niente poi andiamo giù e facciamo una bella cosa una bella cosa mi serve un ender chest scusatemi allora per fare un ender chest ci serve un ender pearl 4 blades 1, 2, 3 4 blades una chest una una lana una chest che facciamo subito senza legna logicamente facciamo la chest noi ah ok una chest voilà e poi che serviva? non mi ricordo più allora abbiamo detto una chest poi 4 blades un ender pearl una lana 2 orsidiane 2 orsidiane giusto? 2 orsidiane no come cavolo era forse così si perfetto abbiamo fatto un ender chest perchè? questa la facciamo diventere diventere dobbiamo farne 2 di ender chest comunque 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 vabbè facciamo nel momento mentre ne facciamo una allora abbiamo detto giallo bianco giallo giallo bianco giallo è quella principale iniziale allora facciamo così voilà pampete andiamo giù dai corri carciofo olè allora abbiamo questa ender chest pampete abbiamo detto abbiamo detto giallo bianco giallo perfetto questa è la chest principale giusto? vediamo un po' se vanno via perfetto allora invece qua ci arriva la roba quella lì perfettico cosa facciamo? facciamo che qua abbiamo sbagliato a metterla qui prima di tutto voilà facciamo in questo modo allora cosa facciamo? questa è la nostra chest principale vi han detto pampete giusto? cioè quella principale quella dove ci arriva tutta la roba così da questo momento cosa facciamo? facciamo che gli mettiamo un tubo di legno che andiamo a prendere un redstone engine andiamo a prendere a fare subito subito dai dai un tubo di legno un redstone engine tubo di legno redstone engine lo abbiamo già perfettico prendiamo del vetro e prendiamo della legna voilà vediamo un po' se funziona ciò che voglio fare allora siamo qua perfettico qui si può spegnere allora abbiamo questo gesto abbiamo detto da qui gli mettiamo il tubo di legno gli mettiamo un bel tubo di legno pampete in questo modico e il redstone engine lo mettiamo sotto giusto? e si possiamo farlo anche così ok mettiamo una leva la perfetto anzi lo spegniamo mettiamo il redstone engine pampete in modo che tutta la roba qui ci esca giusto? giusto ora la roba che esce ragazzi voglio che vada in questo tubo di diamante perchè nel tubo di diamante? perchè nel tubo di diamante? facciamo così magari no facciamo così e poi quello lo spostiamo porca trota porca trota facciamo così allora mettiamo un bel tubo di diamante pampete il tubo di diamante ragazzi che serve tasto destro è per smistare la roba per cui noi possiamo fare che la legna ci vada nel 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 ora vediamo ora vediamo perchè questa cesta possiamo farla così la togliamo e la piazzichiamo sopra sopra pampete allora nel bianco vada tutto mentre 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 allora facciamo così prendiamo uno di questo allora uno una mela e le altre le mangiamo e un albero giusto? giusto? ok e le facciamo andare nel bianco per cui nel bianco gli diciamo che allora un albero gli alberi devono andare di là questo deve andare di là e le mele devono andare di là perfetto ok le mele ce le mangiamo però a questo punto ok ora se noi continuiamo qui se noi questo lo togliamo però non vorrei che non sia compatibile con la mod quella lì nel filtro non ci entra nel filtro non ci entra però possiamo mettere una cestica però possiamo mettere una cestica si 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 no 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 si mettiamo una cesta ragazzi che mi sa che è mille volte meglio allora la ceste la piazzichiamo qua in poche parole abbiamo più bisogno del filtro mettiamo la ceste pampete ok mentre nel rosso gli diciamo che ci va la legna poi vediamo ora da qui possiamo fare direttamente 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 da qua se io metto eh si mi serve un tubo di legno un altro mi serve un tubo di legno e un altro redstone engine usiamo un po' più di materiali ragazzi però non usiamo l'oro eccetera per fare il filtro non usiamo un timer per cui allora facciamo un redstone engine un pistone mi serve della legna ok e della questa qua un pistone poi 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 facciamo dei bastoncini uno e due ok tankete 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 e e e e e tankete redstone engine poi 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 tubo di legno vi ho detto mi manca della legna facciamo così tubo di legno e voilà perfetto possiamo scendere la 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 mi sa che è molto meglio così ragazzi eh vediamo un po' allora ci piazzichiamo il redstone engine qua gli mettiamo una bella leva però non c'ho più leve porca luggia non ho più leve orca luggia ce l'ho qua allora allora leva la piazzichiamo chi pampete ci mettiamo il nostro bel redstone engine con il tubo di legno ok redstone engine allora ragazzi vedete che il legno è sbagliato perchè? perchè da qui esce e torna indietro per cui il wrench la nostra bella wrench eccitela qui e giriamo il tubo in questo modico pampete al contrario ok per cui tutta la legna che viene qua se ne va di la ora possiamo fare una prova vediamo un po' questa roba qui se io li metto anche questi tanto non cambia ok proviamo ad attivare tutto 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 ce l'ho lì sotto orca luggia allora facciamo così attiviamo e vediamo che la roba dovrebbe uscire si stanno uscendo una volta orca luggia vabbè meglio così va più con calma però la pietra va qua perchè va qua la pietra ragazzi nel rosso perchè non l'abbiamo messa nel tubo sono pirla per cui la pietra si può togliere sono un coglione bene nessun problema adesso sicuramente starà andando lì no le cavolo sta andando vabbè comunque vedete che la sabbia va in su pampete se ne va in su e intanto lo smistamento c'è se la smista ok dicevo se la smista mentre la cobblestone se l'ha andata sicuramente qua ecchitela pampete bene 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 ora legna non ne abbiamo per farla prova comunque il nostro impianto funziona così già è più semplice ragazzi abbiamo smistato tutto perchè così da qua piano piano se la smista tutta la legna se ne va di là direi che è perfect 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 poi volendo possiamo fare anche un po' alla volta possiamo fare per dire facciamo un esempio se noi andiamo qui nel bianco possiamo dirgli di prenderne un po' di più alla volta no pirla ne un po' no non si può aumentare solo una alla volta solo una alla volta vabbè noi ragazzi fretta non ce ne da per cui una volta che attivo il macchinario poi una alla volta si smista da sola che ne dicete voi è meglio così che con il filtro di prima bene 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 ora dobbiamo pensare invece alla corrente dobbiamo attivare questi boiler ragazzi per forza andiamo a prendere tutta la legna che abbiamo su vediamo un po' nel frammento ok qua smistato prendiamo un bel po' di carbone e lo piazzichiamo qui ne abbiamo 15 ok via tutta questa cobblestone via la terra via il filo ok andiamo a prendere tutta questa legna ok e vediamo se riusciamo ad attivare i boiler ragazzi non credo però non credo proprio che riusci riusciamo ad attivare i boiler allora andiamo qui e facciamo così 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 poi li mettiamo questi qui intanto andiamo un po' ok ragazzi ce l'ho fatta dopo un bel po' di legna ho iniziato a mettere qualche egg e ha iniziato a fare lo steam ha iniziato a fare il vapore per cui guardate il vapore passa eeeh 13% addirittura vi ricordate che prima invece quel boiler piccolo arrivava massimo a 5 per cui dovrebbe fare molta più corrente guardate guardate ora in teoria dovrebbe iniziare a fare la legna e infatti guardate inizia a fare la legna ragazzi guardate qua papampete perché ha iniziato a tagliare eeeh guardate qui la legna va qui si dovrebbe cuocere intanto ho messo anche i tubi di legno di doro guardate pampete la legna parte e arriva qui ed ora la legna ragazzi non farà altro che mantenerlo caldo a me non mi interessa che aumentino i gradi anche se stanno aumentando grazie al cold cake a me interessa che tutta la legna che arriva mi mantenga caldo lo steam boiler solo quello interessa a me ragazzi funziona pampete poi volendo noi potremmo mettere oltre di quelli per farlo andare più veloce però per il momento va bene così a noi è perfetto guardate ora sicuramente si riempirà e una volta riempito la legna non so dove va spero che non esca dai tubi però una volta che qui parte la legna ragazzi come si dice eeeh una volta vedete è veloce a consumarsi anzi no si consuma sempre di meno vedete perché ormai qua è caldo per cui si consuma di meno la legna il cavolo guardate come si consuma ragazzi ottimo l'impianto è it's the perfect it's the perfect it's the perfect ragazzi it's the perfect bene la legna va questo dovremmo farlo ripartire qua già si sta consumando perfetto cosa è successo ah ok era spento qui perfetto dovremmo solo dare più corrente qui per cui fare un impiantino per la corrente e un impianto per questi ragazzi per fare il catch coil ragazzi ce l'abbiamo fatta semplice semplice qua abbiamo finalmente ritornato la corrente fatto ritornare la corrente e vi dico che da Luke è tutto ciao a tutti ha ha